Oggi nei quartieri, prima via Vopiglia, adesso via degli Stati, per discutere attraverso un confronto con i cittadini dei problemi della città di Cosenza. I quartieri periferici vivono una condizione di sofferenza. Noi dobbiamo lavorare per un grande progetto, quello di Cuccione è appunto il progetto della grande Cosenza, che ha l'obiettivo di fare delle periferie centro, cioè fare in modo che i grandi quartieri popolari possano essere oggetto di interventi, di riqualificazione urbana, di realizzazione di servizi moderni ed avanzati, capaci appunto di realizzare una riqualificazione complessiva della città. Abbiamo allocato anche queste risorse per il nuovo ospedale di Cosenza, 245 milioni di euro. È una grande infrastruttura che serve la città di Cosenza, l'area urbana e l'intera provincia. Devo dire che questa struttura è collocata proprio a Vagliolise, perché Vagliolise è un crocevia di infrastrutture che collegano Cosenza con il territorio. Basti pensare alla Paola, Cosenza, Crotone, all'autostrada, alla stazione stessa di Vagliolise, quindi ai raccordi ferroviari, e nello stesso tempo costituirà oggettivamente un fattore di riqualificazione di tutta l'area di Via Vopiglia, dell'area intorno a Vagliolise. Salvatore Bruno per la Cinews 24 Salvatore Bruno per la Cinews 24